Entra nel vivo Equality Puglia, lo strumento finanziario destinato a dare impulso alla crescita di start-up e PMI innovative, aumentandone la solidità patrimoniale a disposizione delle aziende che intendono investire in Puglia. Ci saranno complessivamente 80 milioni di euro tra risorse pubbliche e private, 40 milioni le une e 40 le altre, per rendere possibile una simile iniezione di risorse. Sono stati siglati accordi di finanziamento con le quattro società di gestione del risparmio, che si sono candidate ad investire 40 milioni di risorse private attraverso i propri fondi di Venture Capital e hanno superato la procedura di selezione indetta da Puglia Sviluppo. Al centro di ogni accordo i rapporti tra le SGR e Puglia Sviluppo ad entrare in gioco per ciascuna delle quattro società sono infatti due fondi. Da un lato quello della SGR che rende disponibili per investimenti in Puglia 10 milioni di euro con un fondo principale, dall'altro quello costituito da Puglia Sviluppo con altri 10 milioni di risorse pubbliche, fondo di co-investimento che affianca ciascuno dei fondi principali. Vogliamo aiutare il sistema delle nostre imprese, soprattutto quelle innovative, a crescere. Noi stiamo parlando ad attrarre i fondi di capitali e siamo una delle prime regioni italiane che sperimenta un'azione importante di attrazione di questi fondi di investimento, raddoppiando il capitale. Provando a occuparci di non solo di contare le imprese che stanno nascendo e crescendo, soprattutto nel mondo delle start-up innovative, delle piccole e medie imprese innovative, ma aiutandole a capitalizzarsi e a crescere.